La mia moglie sta portando il contorno Se c'è qualche altra coppia che vuole ballare mentre sognete i muscoli Ricordo che siamo in diretta sulla sacca grazie a Pino Germani Ora inizio a scrivere queste coppie Vai dai capitani, guarda, ogni capitano si dirà il nome e il cognome delle coppie che partecipano A Enea Viaggi, a Bar Centrale, poi aspetta che leggo Macelleria in Chiaramonte, Alimentari Susanna Supermercato Mazzarisi e Auto Officina Miceli Grazie e grazie a tutti Naturalmente Hai visto subito? Dalle a Cerenze Oh, Cerenze Che fai dire? Mi sono distratto un attimo E grazie alla musica di Pino Germano E grazie a tutti E grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Complimenti Grazie a tutti 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 Ora!